ad evitare ogni ostentazione di ricchezza. Sulla prua ha un ferro con sei denti davanti i sestieri e uno rivolto all'indietro a simboleggiare la giudecca che serve a bilanciare il peso del rematore a poppa ma anche come guida per mirare il centro quando passa sotto i piccoli ponti. Le gondole sono prodotte in cantieri specializzati denominati sequeri. Buongiorno a tutti.